Grazie. Grazie. No? D'accorda? No, no, è giusta. Non è legata lì sotto? Non è legata lì sotto? Non è legata. 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 no io adesso vengo giù si si mi cali mi sono rilegato perchè io adesso qua c'è un anello per scendere mi sono assicurato con un rinvio barcaiolo su un rinvio per non far cadere la corda mi sono slegato ho fatto passare la corda nell'anello e mi sono rilegato è una variante questa ci sono due modi per farlo dipende da quanto sei scomodo no ma c'è anche un altro sistema per legarsi qua adesso recupera la corda ok quando ci sei dimmelo che scendo vai piano ok vai vai ok 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 grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.